Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior TV OLED. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Sony Bravia. Il Bravia OLED è uno Smart TV da 55 pollici che utilizza la tecnologia OLED per ottenere neri perfetti e contrasti elevati. L'esclusivo processore X1 Ultimate crea immagini più nitide e realistiche, mentre l'audio superficiale acustico offre un'esperienza coinvolgente. Con Android TV e l'aiuto di Google Assistant, il TV diventa ancora più intelligente. Il Sony Bravia OLED 558P è un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza visiva straordinaria. I neri perfetti e i contrasti elevati garantiscono immagini straordinarie, mentre il processore X1 Ultimate processor assicura immagini nitide e realistiche. L'audio acoustic sound crea un'esperienza coinvolgente e con Android TV e l'aiuto di Google Assistant, il TV diventa ancora più intelligente. Se siete alla ricerca di uno Smart TV eccezionale, il Sony Bravia OLED 558P dovrebbe essere in cima alla vostra lista. Numero 4, Philips TV Ambilight. Philips Ambilight TV OLED 4K OHD da 65. La combinazione di Ambilight e OLED su tre lati garantisce un'esperienza visiva senza precedenti. Grazie a Dolby Vision e Dolby Atmos, questo TV Philips è dotato della più recente tecnologia di qualità dell'immagine. Il processore P5 con AI offre un'immagine incredibilmente realistica, rendendolo la scelta perfetta per gli amanti dell'intrattenimento. Android TV è incluso nella spedizione e rende il televisore Philips il centro di intrattenimento per eccellenza. Grazie all'Ambilight su tre lati, il televisore Philips Ambilight crea un'esperienza visiva davvero coinvolgente. Le barre luminose a LED sul retro del TV proiettano il colore sulla parete retrostante, creando un alone di luce che esalta i vostri spettacoli e film preferiti. Terzo posto c'è LG TV OLED. Il TV LG è un TV Smart LED 4K Ultra HD da 65 pollici con IT in Q che offre un'incredibile esperienza cinematografica a casa vostra. Grazie a un nero perfetto e ha un contrasto straordinario, potrete godere di maggiori dettagli e realismo. Il processore 7 di seconda generazione potenziato con l'algoritmo AI Deep Learning offre una qualità delle immagini ancora migliore. Inoltre, il TV LG con intelligenza artificiale espande la vostra esperienza con Google Assistant e Alexa integrati. La soundbar LG SL5Y inclusa, con tecnologia virtual X, riproduce un suono ricco e coinvolgente, mentre l'audio ad alta risoluzione è un'ottima scelta per gli audiofili. Il 4K Cinema HDR offre una gamma più ampia di contrasti e colori più precisi, mentre Dolby Vision IQ migliora i contenuti per un'esperienza cinematografica ancora migliore. Numero 2. LG LG Smart TV 4K48 è un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza visiva di alta qualità. Questo TV LED è compatibile con lo standard DVB-T2EVC Main 10, il che significa che è pronto per la prossima generazione di trasmissioni digitali. I pixel autoilluminanti dello schermo LED offrono una qualità d'immagine straordinaria, mentre il processore 4K 9 gennaio 4Konai garantisce immagini fluide e uniformi. Con Smart TV Konai Tinku è possibile scegliere il proprio assistente vocale preferito per controllare il televisore. Il è incluso anche Magic Remote, che semplifica la navigazione nei menu del televisore. Che si tratti di guardare il film o lo spettacolo preferito? Di giocare a un videogioco o di trasmettere contenuti dalle app preferite. Infine, il numero 1 della nostra lista, LG OLED. LG OLED TV è uno Smart TV che utilizza la tecnologia OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori perfetti. Immagini e audio spettacolari grazie al nuovo processore 9 di terza generazione con intelligenza artificiale. L'esperienza True Cinema con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode rende l'esperienza di gioco senza compromessi. La Smart TV Web OS, facile, veloce e ricca di contenuti, con le principali applicazioni, tra cui Disney+, ne fanno un'ottima scelta per le vostre esigenze di intrattenimento domestico. Il nuovo TV OLED IT in Q è uno dei migliori TV sul mercato, grazie alla combinazione di un'ottima qualità delle immagini, di un audio impressionante e di funzioni intelligenti di altissimo livello. E sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.